questa mattina temperatura zero gradi in questo vetro è stata applicata da un lato la nanotecnologia idrorepellente anti ghiaccio e dall'altro lato niente ora guardiamo il lato che non è stata applicata la nanotecnologia come voi potete vedere il vetro si è congelato guardate un po da questo lato con la nanotecnologia anti ghiaccio il vetro è semplicemente umido guardate anche con il dito da questo lato se provo con il dito vedete che devo buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti